Der Kunstgarten, percorrendo la strada statale che da Faenza porta a Modigliani incontriamo e incontrerete questo giardino dell'arte in cui si è creato e ha creato il Buon Retiro il maestro Gianfranco Morini, una mostra dal 9 luglio al 30 settembre 2016. Certo, dal 9 luglio al 30 settembre potete usufruire di 5 artisti che sono in esposizione qua e questa data è stata creata perché a Faenza il 2, 3, 4 settembre ci sarà Argillà dove avranno tanti ceramisti da tutta Europa così potranno anche loro usufruire di questo posto e vedere anche questi artisti qui. Io sono molto solista, ho deciso io di scegliere, ho chiesto perché mi piacevano ma non è che io collaboro con loro così. Mi piacevano, ho detto volete essere qua. Chissà maestro, dal giardino dell'arte nasceranno altre iniziative. Sicuro, questa è una cosa certa.